Oggi volevo concentrarmi più che altro su come possiamo migliorare il nostro posizionamento attraverso anche la nostra mobilità in questo esercizio, in questo setup dello squat, perché moltissime persone fanno fatica a livello di mobilità della spalla e poi tutto quello che è lo stress che si ripercuote sul gomito e sul polso quando andiamo a fare lo squat low bar. Infatti se noi abbiamo il bilanciere posizionato sul rack in questa maniera, adesso io sono a freddo, quindi andiamo a vedere un posizionamento da freddo, poi andiamo a fare degli esercizi di attivazione che ci possono aiutare a metterci meglio in posizione e magari riusciamo a vedere se già il mio posizionamento un pochettino cambia e riesco ad essere un po' più stabile. Quindi se vado a freddo, adesso ho una mobilità di base abbastanza buona rispetto a qualche anno fa in cui magari facevo fatica, anche se utilizzo una presa leggermente più o larga di quella che ho usato in passato. Mi incastro bene, mi incastro bene il bilanciere appena sotto la spina della scapola e questo è il mio posizionamento a freddo. Se io fossi magari meno mobile di come sono, potrebbe essere più una cosa del genere, quindi la spalla non mi lascia tanta mobilità, magari sono un pochettino rigido, tendo a elevare i gomiti all'indietro e possiamo vedere anche di lato semplicemente come da questa posizione la cosa che possiamo vedere insomma è come sia difficile respirare bene da questa posizione perché il torace collassato in avanti in questa maniera non me lo permette assolutamente di gonfiare bene l'addome, stabilizzare la pancia e poi effettuare il mio squat. Quindi se la vostra posizione di low bar squat è una cosa del genere, vogliamo farci un pochettino di lavoro. Semplicemente un esercizio che avevo proposto come mobilità, come propedeutico a fare il low bar squat nel tutorial che avevo fatto anni fa era bilanciere nel rack, vado per posizionarmi, però cerco di portare piano piano il bilanciere più in basso possibile sulla schiena e io mi spingo verso l'alto leggermente in avanti in modo da allungarmi in questa maniera e portare questo allungamento in modo da mobilizzare la spalla e esasperare quel posizionamento che voglio avere. Quindi questo già un po' allunga anche la muscolatura del petto in vista poi del posizionamento che vogliamo avere. Un'altra cosa appunto facendo fede a questo può essere banalmente strecciare il piccolo pettorale in modo che ci permetta un posizionamento migliore quando andiamo a fare squat e non rimaniamo chiusi in avanti in questa maniera perché abbiamo il petto contratto, riusciamo a rilassarlo un po' di più e quindi allargare le nostre braccia verso l'esterno e posizionarci meglio con il bilanciere sulla schiena. Quindi questa è una cosa che magari già per moltissimi di voi può fare tanta differenza. Qualche minuto di stretching del piccolo pettorale braccio flesso a 90 gradi contro il rack, gomito flesso e ruoto nella direzione opposta. Una volta fatto questo il vero esercizio di riscaldamento la vera serie di esercizi la facciamo attraverso dei cavi se non avete dei cavi possono andare benissimo degli elastici e vogliamo servirci di o una classica fune o comunque una cinghia che se abbiamo a disposizione è un po' più lunga di quelle che sono le classiche funi per i tricipiti insomma e se abbiamo la possibilità regoliamo l'altezza della carrucola più o meno ad altezza della spalla, un pochettino più basso di così in modo che sia in linea più o meno con la mia spalla ma volendo anche se è sopra la nostra testa in qualche maniera ci possiamo arrangiare per fare l'esercizio o anche se sono cavi dal basso però la mia cosa preferita è avere il cavo ad altezza spalla e adesso capirete anche il perché. Facciamo una serie di esercizi il primo è un classico face pull in cui tiro la cinghia cerco di portare il moschettone verso la mia fronte ma la cosa importante sarà l'extra rotazione che voglio creare alla spalla quindi immagino con i pollici di indicare la parete dietro di me e tiro il moschettone più vicino possibile al mio viso in modo da creare questa bella posizione di extra rotazione attivare tutta la parte posteriore della schiena tutto il complesso del trapezio centrale e del deltoide posteriore per creare questa extra rotazione che poi mi servirà quando vado a fare lo squat facciamo una decina di ripetizioni in questa maniera non serve tanto peso bisogna concentrarsi invece sul sentire bene il movimento e la contrazione muscolare dopodiché andiamo a lavorare sulle fibre più basse del trapezio per tenere bene in posizione la nostra scapola quando facciamo squat partiamo ad altezza spalle e braccia tese andiamo a formare una y sopra la testa qui andiamo a lavorare proprio sulle fibre più basse del trapezio con questo movimento che ci stabilizzeranno la spalla durante il posizionamento nello squat altre 10-12 ripetizioni vogliamo fare comunque un lavoro un pochettino ad alte ripetizioni sempre carico abbastanza basso e se vado a vedere anche qui quello che cerco di fare poi è massimizzare la posizione quando sono in fondo cercando proprio tirare bene indietro braccia sempre belle tese quindi ogni tanto ristabilisco il controllo e spingo su l'altro esercizio che vado a fare da questa posizione è mantengo sopra la testa piano piano scendo in squat cercando di tenere braccia distese e cavo bello tirato non voglio lasciare che il peso mi trascini avanti quindi tirato e scuoto su e giù faccio una decina di ripetizioni di questo anche quando sono qua giù il cavo magari ha un po' più di forza perché la mia postura la mia mobilità diventa minore quando sono giù in squat invece voglio tirare bene indietro l'ultimo esercizio mi fermo in fondo scendo e spingo sopra la testa sempre tenendo il cavo tirato verso di me e questo sarà l'ultimo esercizio di attivazione che facciamo 10-12 ripetizioni di questo e riposo adesso ho già accumulato un po' di tempo sotto tensione in questi esercizi sento tutta la muscolatura del trapezio del deltoide posteriore che ha già lavorato è già piuttosto stanca un po' più intenso di come lo faccio di solito come riscaldamento quindi sento bene tutta questa attivazione e se andiamo a verificare un attimo il posizionamento sento già molto più mobile molto più stabile quando vado a prendere il bilanciere e a portarlo sulla schiena e dovrebbe essere già più ben allineata la mia schiena dovrei avere una buona mobilità a livello della spalla che mi permette di respirare bene prendere bene aria stabilizzare il tronco e scendere meglio nel mio squat avere meno stress sul polso sul gomito sulla spalla e avere una linea più pulita in generale quindi questo è un riscaldamento che ultimamente ho ripreso un po' in mano per il mio low bar squat perché sono stato un po' pigro recentemente e mi affidavo solo al fatto che la mia mobilità di base quindi la mobilità che riesco a esprimere a freddo senza riscaldamento mi bastasse quindi entravo in palestra mi posizionavo e cominciavo a scuotare ogni tanto inserire esercizi di questo genere soprattutto se abbiamo una storia un passato di infortuni carenze di mobilità cose del genere può aiutarci tanto quindi vi consiglio di tenervi stretti questi esercizi e includerli nel vostro riscaldamento io spero che questo video vi sia piaciuto e vi sia stato utile se vi è piaciuto vi invito ad iscrivervi al canale a lasciare un mi piace e noi ci vediamo nel prossimo video grazie a tutti